Riparte la stagione al Teatro Virginian, che cosa c'è in cartellone? Dunque, intanto partiamo domani mercoledì sera con Annunziata Dettanensi di Riccardo Goretti, uno spettacolo di nata a teatro, quindi con una compagnia del territorio. E poi il cartellone è molto vario, abbiamo uno spettacolo ogni mese, e avremo due spettacoli che trattano il tema delicato del femminicidio e poi diversi titoli. In particolare Antropolaroid a dicembre sarà un appuntamento clou, nel senso che questo spettacolo di Tindaro Granata è da diversi anni un successo nel panorama nazionale, lo abbiamo rubato proprio prima che andasse in turni a Firenze. Abbiamo anche in cartellone a febbraio uno spettacolo che si chiama Lo stronzo, che parla proprio del tema del femminicidio, che è uno spettacolo che ha vinto moltissimi premi e sarà in programma al Teatro Stabile di Torino. Quindi, come sempre, cerchiamo nel nostro piccolo di offrire delle realtà emergenti, ma anche famose nel territorio nazionale. Il pubblico come può partecipare? Dunque, partecipare diciamo da pubblico, cioè venendo a vedere i nostri spettacoli, prenotando i nostri biglietti tramite i numeri di telefono che trovano online sulla nostra pagina Facebook o sul sito www.lafilostoccola.it, che tra l'altro è attivo da pochissimo. Perciò, appuntamenti di qui fino a maggio, ci saranno anche delle realtà, diciamo, amiche, che ospitiamo da diversi anni, come la realtà di Aria Mista, improvvisazione teatrale, che da noi faranno, penso, sei appuntamenti, e la realtà anche della Comic Art, che è una compagnia napoletana, ormai da tre anni affezionata, anche loro del Virginian.